Sembra che la figlia piccola di Carmen di Pietro sia una nuova collegiale, infatti il reality di Gai 2, il collegio 8, riparte a settembre e tra le collegiali ci sarà anche Carmelina Iannone, figlia della showgirl Carmen di Pietro. Pier Silvio Berlusconi ha bocciato la mamma e il fratello Alessandro perché avevano già partecipato al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi e la Rai ha preso la sorellina piccola, sempre ovviamente reality si tratta.